Detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo Aschisch. Lea Teodora Mastrorosa, 22enne di Brindisi, è stata arrestata dai carabinieri all'interno di una delle più note discoteche della Puglia, Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce. Aveva con sé 17 dosi di sostanza stupefacente. La ragazza è stata incastrata da alcuni militari che si confondevano in ambiti borghesi dalle centinaia di giovani che ballavano. Hanno notato appunto che la donna era poco interessata al ballo e che invece si muoveva in maniera sospetta all'interno del locale, fino a quando non è stata letteralmente vista cedere una dose ad un coetaneo. A quel punto i carabinieri sono intervenuti chiedendo cosa avesse consegnato e, annunciando la perquisizione, in un sacchetto di cellofan all'interno dei pantaloni aveva un sacchetto da tabacco sfuso in cui erano custodite 17 dosi di Aschisch. Sono scattate le manette per spaccio di droga e il magistrato ha disposto per la donna gli arresti domiciliari.